Salve a tutti ragazzi del vostro Master Luke e oggi siamo in questo primo video unboxing con delle cuffie direi stupende, le Cooler Master C500 Seres che sono apposta per il gaming diciamo allora come possiamo notare qui ci portano tutte le indicazioni che ha questi cuffie ossia tutti jack che hanno che sono compatibili con tutte diciamo le console solo una prossima generazione che sarebbe la PS4 e questo sarà un unboxing veloce perché ovviamente non sono esperto qui comunque notiamo che c'è scritto che cosa sono ottime e andiamo subito allo spacchettamento ecco le qua allora qui c'è un libretto di istruzioni che non vi cerchiamo mai qui cosa sono indicazioni vabbè è un libretto diciamo in cui ci sono indicazioni che non vi cerchiamo e qui cominciamo con i nostri cavi al primo questi sono i cavi allora un attimo sto prendendo i cavi allora questi sono i diversi cavi che permettono di collegare le goffie e il microfono vicino le nostre console ok mettiamo le parte poi cominciamo ad aferire le cuffie un attimo così si vede tutto facciamo così ecco le nostre cuffione che sono gigante attenzione ok 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 è stato il problema da unboxare diciamo ok leviamo il microfono ecco qui il nostro microfono questi cavi in questo momento come si facciano ok un attimo un attimo boh facciamo passare così voi non lo state vedendo perchè è meglio ecco fatto come potete potete notare c'è un cavo lunghissimo questo lo mettete a carro al pc si rimettiamo è un cavo lunghissimo cioè nelle indicazioni di scritto adesso non ricordo guardate tutto in di sotto in un attimo allora si perfetto allora questo il microfono va attaccato qui naturalmente c'è questo funzionamento per jack queste sono le nostre super mega cucchie giganti per questo mini unboxing è finito qui ragazzi il fatto che come già fare nuove registrazioni ve ne parlerò e dopo questo è un unboxing spero che vi sia piaciuto e ciao ciao a tutti ok ragazzi siamo tornati come dovete notare questo è il test audio diciamo così comunque scusate se l'unboxing è uscito proprio una pietà però non è proprio mio cioè non sono molto abile diciamo a fare un unboxing li so fare soltanto velocemente vabbè a parte iscritti se volete un unboxing più dettagliato me lo dite che ve lo faccio tanto tutto scatolano tutto ancora pronto vabbè in poche parole qui sarà il test audio spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace condividete iscrivetevi al canale e bella a tutti ragazzi ciao